la prossima parte del video di pallone punteggio 4 4 la telecamera sei capotata col bastardo di vento di merda figlia di puttano handicappato il video di pallone inizia con una disavventura magica di pallone vai giuseppe vai lì sotto vai lì sotto troppo sei capotato vai che raggi giocata mi manca posso segnare io o il culo entri prendi e partia passa entri entri pegli lasci sotto no 1 a 1 passa battuta passa non tirare 3 entra entri ferraro entra 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 passa oh dalla che c**o fuoco angolo passa tira passa la telecamera la telecamera metto bastardo andrea mettuto mettuto si 3 2 mettuto vai entri vai vai entri entri passa 1 3 2 3 entri passa la vede di segnale se è possibile passa passa se no non zegno se fai così entri ma cosa se non faccia così va 4 2 battuta 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 andri ecco basta andri 4 battuta battuta vai fuori eh eh si oh non riusci a vedere lei è come la faranno eh si eh si andri andri non è colpa mia andri andri non è colpa mia vai vai passa andri passa l'opportunità di segnare passa però eh 2 contro 1 ti avevo fatti foto ehi migliore vince vince giuseppe oh prossima partita video di pallone sto parato o